Giornata conclusiva del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Un intervento di respiro europeo, ha parlato della lista Tsipras e delle prossime elezioni che ci sono in Grecia e si è auspicato in qualche modo un successo di questa lista e un pochino rientrando tra coloro che criticano e sono tanti questo dominio del rigore in stampo europeo. Sì, il secondo intervento perché non mi sono sottratto alle questioni più interne. No, la cosiddetta governance economica dell'Unione Europea vive e sperimenta un problema di democrazia, cioè di consenso. Questo è anche di legittimità, nel senso di legittimità democratica. Questo è l'oggettivo e forse non vale la pena troppo soffermarsi su questo. E quindi, al di là del merito, intanto la candidatura Tsipras pone il problema di un'opinione pubblica greca che è in buona parte ostile. Uno può dire hanno torto i greci, però in democrazia questo va tenuto conto e va tenuto presente. Quindi, penso che, se vince la Tsipras, dalla necessità, dalla trattativa che poi necessariamente dovrà instaurarsi con questo soggetto di governance economica dell'Unione Europea, non potrà che risultare un passo avanti perché sarà costretta questa Unione Europea a quantomeno discutere con una linea politica che si pone con delle differenze sostanziali sulla cosiddetta austerity. Poi, anche il dibattito non deve essere così schematico, così manicheo, no? L'austerità adesso non piace a nessuno, prima era il Vangelo, non c'è una soluzione magica e i debiti pubblici sono sicuramente un problema. Quindi non si tratta di fare il tifo per una nuova fase di spesa pubblica contro l'austerità. Si tratta innanzitutto di inserire degli elementi di democrazia e del tenere conto di un'opinione pubblica nel dibattito economico. Poi, certo, anche nel merito si pone un problema perché o adesso il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato del debito pubblico, da parte della Banca Centrale Europea, sarà un'operazione davvero europea, quindi con garanzie europee, che ci porta verso gli euro bond e la riforma della stessa Banca Centrale Europea, magari l'accoglimento della proposta Roccare e altri, cioè che la Banca Centrale Europea possa finanziare direttamente il debito pubblico senza dovere di fatto passare dalle banche. O c'è una riforma in questo senso dei poteri della Banca Centrale Europea e della stessa operatività della Banca Centrale Europea che consentirebbe a un paese come il nostro, lo era anche la Grecia, in avanzo primario, un paese come il nostro di vedere sensibilmente ridotta la spesa per interessi in tempo breve e quindi di poter innescare un circolo virtuoso, certo anche poi di riduzione del debito, ma perché ne crei le condizioni economiche, non perché pensi di imporlo con un tratto di penna, e un diktat su un foglio. Poi certo, se questo venisse realizzato da liberali, liberisti, le nostre politiche nel merito potranno anche essere molto diverse, lo saranno certamente da quelli più che Tsipras, diciamo da lista Tsipras che magari vorrebbero approfittare per reinserire tutta una serie di lacci, lacciuoli o comunque di presenza statalista e burocratica nell'economia, ma ricordiamo che persino a Lesina Giavazzi hanno proposto da liberisti uno sfondamento del parametro del 3% vincolato a una serie di riforme, quindi nel merito le proposte restano aperte. Certo, Tsipras si fa anche portatore della questione della ristrutturazione del debito. Forse si può ancora evitare la ristrutturazione del debito, ma per la Grecia è stata fatta, è stata fatta con una regia tedesca che ha scaricato i costi sulle istituzioni internazionali, Fondo Monetario Internazionale innanzitutto. Allora, anche questo non deve essere un argomento tabù se si riesce ad affrontare a livello e in termini europei. Ecco perché credo che se si conferma questa condizione di favorito nei sondaggi di Tsipras, poi nel voto, penso che potrà essere un fatto positivo per una maggiore democraticità delle scelte economiche europee e anche magari nel merito, perché poi per realizzare riforme liberali comunque questo macigno del peso degli interessi del debito pubblico deve essere affrontato, almeno in parte rimosso. Poi peraltro ricordiamo che Tsipras è entrata in Europa raccogliendo le firme, in modo non formicuniano, un nuovo gruppo, e poi comunque la loro lista si chiamava un'altra Europa. Quindi già si propone come una trasformazione in Europa, non essere antagonista. Sì, penso che la declinazione italiana sia servita innanzitutto da scialuppa di salvataggio a un insieme di partiti, di frattaglie della sinistra, diciamo a sinistra del PD, che con tutto il rispetto ovviamente delle storie individuali, non mi pare rappresenti una speranza concreta, perché? Per la sottovalutazione dell'elemento federalista europeo, ma in che senso? C'è Barbara Spinelli, no? Dovrebbe essere... No, dell'elemento federalista europeo fondato innanzitutto sulla forza del diritto, cioè la concezione liberale del rispetto dei diritti democratici che come radicali stiamo ponendo e che purtroppo da quella parte non ha riscontrato alcun interesse effettivo, perché quando la televisione gioca a tuo favore, vale anche per Grillo, ma vale anche per Vendola, non c'è mai stata la sensibilità o l'attenzione di sfruttare una grossa possibilità di esposizione mediatica, per esempio di Vendola in questi anni, per parlare anche del diritto dei cittadini a conoscere le opinioni e le campagne radicali. E' questa attenzione che, da radio radicale, del microfono aperto anche agli altri, del diritto di fare parlare gli altri, che è una sensibilità per il diritto e per la democrazia che, non so, negli altri paesi europei, ma sicuramente nella declinazione italiana dell'Iste Tsipras è quello che non ha dato un valore sufficientemente apprezzabile, ai miei occhi, a quell'esperimento politico e anche a quella presentazione elettorale. Perfetto, passiamo dall'ambito europeo all'ambito un po' più interno. Tu sei consigliere comunale a Milano e da Milano ci è arrivata in questo comitato la lettera di dimissioni di Claudio Barazzetta dal comitato, che poi preannunciava anche delle dimissioni presumo dalla segreteria dell'associazione milanese Enzo Tortola. Ecco, tu che ne pensi? Claudio al congresso ha espresso una linea, una posizione sicuramente diversa dalla mia. Lui e anche altri, diciamo così, all'opposto, potremmo dire, rispetto alla segreteria di Rita Bernardini, cioè altri invece in grande sostegno per la priorità espressa da Rita con Iniziatra Grae, eccetera, eccetera, da due parti apparentemente opposte è arrivata la critica al fatto che si fosse trovata a congresso una soluzione comune. L'hanno considerata in molti una furbata o un cedimento della segretaria di Pannella che hanno ceduto sugli emendamenti che chiedevano per esempio un rilancio anche delle iniziative popolari o una furbata e un cedimento di chi, come me, quel emendamento ha presentato e che non ha avuto il coraggio di prendere in mano il movimento, la segreteria in una sorta di scontro di potere senza potere auspicato. Io non la vedo così. Penso che sia stato un bene che il congresso abbia chiesto di fare lo sforzo, il tentativo di coniugare la priorità politica sullo Stato diritto contro la ragione di Stato, diciamo la legalizzazione dello Stato italiano e l'interruzione della criminalità dello Stato italiano, il messaggio alle Camere di Napolitano, quel percorso, e coniugarlo con i tanti fronti tematici, faccio un esempio di cui mi occupo personalmente, il fronte dell'eutanasia o delle libertà civili con l'associazione Coscioli, territoriali, quindi tematici territoriali, che sarebbero distraenti se fatti con un metodo da partitino che cerca semplicemente alleanze nella partitocrazia. Ma secondo me sono convergenti se sono fatti con il metodo radicale delle denunce, della non violenza, e quindi io questa incompatibilità che hanno trovato alcuni da una parte e magari Claudio Barazzetta dall'altra, rispettando naturalmente la posizione, io francamente non l'ho seguita. E quindi credo che semmai adesso ci sia l'opportunità di rilanciare su entrambi questi fronti, questi registri, questi piani di iniziativa possibile. Quindi se Claudio non condivide che ci sia questa possibilità, io trovo lì le motivazioni più politiche delle sue dimensioni, in questo motivazioni che non condivido. Poi ci sono degli elementi di anche convivenza all'interno di un movimento, che a volte sono fatti di aspetti anche umani, di gratitudine, su quale la voglio anche rileggere con più attenzione questa sua lettera. Lui è una persona che sicuramente ha lavorato tantissimo e quindi questo, in termini militanti e a Milano, qualcosa di importante significa e ha significato. L'intreccio di questi due piani, cioè un piano politico sul quale io non mi riconosco nella linea da lui espressa, e un piano più personale, mi vorrebbe dire, di frustrazione, quasi di disperazione, che può essere troppo. Ecco, io ho trovato anche una certa solitudine in una lettera che mi è sembrata anche uno sfogo in qualche modo. Forse, tante cose che ha scritto le aveva anche dette già, ma forse affrontarle in un tentativo di dialogo, prima di dare queste dimissioni un po', io lo percepite come solitarie, come a un certo punto una reazione, uno sfogo, forse avrebbe aiutato a trasformare in termini più propositivi alcune delle cose che ha scritto. Senti Marco, nella tua risposta mi ha stimolato una domanda che voglio farti. Una constatazione riguarda il fatto che tu dicevi che effettivamente secondo te non ci sta questa incompatibilità di visioni, perché poi effettivamente tutto, per presumo, parta anche dagli esiti congressuali. Questa incompatibilità tra le modifiche alla mozione della segreteria, diciamo gli emendamenti che poi sono stati accolti, però ricordiamoci anche che in quel congresso una segretaria si era espressa, nulla di vincolante, ma nel merito insomma rivelava qualcosa di importante. Secondo me che qualora la sua mozione fosse stata modificata e qualora i candidati da lei indicati come tesorieri e presidenti non fossero stati appunto quelli eletti, lei non avrebbe continuato a fare la segretaria. Quindi nel merito insomma mi sembra che una certa incompatibilità si rivelava. Poi ti volevo fare subito un'altra domanda così poi non ti interrompo. Come mai in questo gruppo, in questo partito, in questo movimento, ogni volta che nei momenti di decisione democratica che sono i congressi, generalmente si presenti la possibilità, la sola possibilità, della concorrenza di due visioni, che poi appunto debbano essere scelte, votandole, è sempre uno strazio per cui sembra che si debba per forza convergere in un, dico compromesso, insomma, nella visione unica. Nella mozione unica, un po' una cosa leninista, io mi ricordo che negli ultimi congressi di fondazione come comunista c'erano due, tre candidati alle segreterie. Adesso non voglio per carità oltraggiare parlando delle primarie del PD, ma insomma io penso che anche se ci fossero stati più candidati segretari, poi l'eletto sarebbe stato comunque segretario di tutti quanti, anche di chi non avrebbe, di chi non aveva ricevuto il voto, insomma. E invece qua sempre, in questo gruppo, mi sembra, in questo partito, in questo momento, uno strazio è una cosa viscerale, bisogna convergere verso una cosa unica, un'idea unica. La questione dello strazio può riguardare un elemento psicologico, forse, ma partiamo da Rita. Rita, io non ho interesse politico a inchiodare una persona all'opinione pure autorevolmente detta in sede congressuale. Rita ha cambiato idea sulla compatibilità. Ora il problema è di vedere se riuscirà ad esserci un lavoro di realizzazione anche di quegli obiettivi stabiliti dalla mozione. Ma questo, laicamente, è questo che mi interessa. Non fa, ah no, ma tu hai detto così, allora... Allora, sì, 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 ma... C'è una mozione oggi che non è condivisa dal tesoriero. Ho detto semplicemente, l'ho detto in comitato, che questa oggi è una responsabilità politica. Se questo non sarà, se non c'è un lavoro sulle iniziative popolari, poi c'è il dato personale che ognuno ha come radicale, di l'urgenza di sentire un tema e di provare a portarlo avanti. Un tema della propria città o un tema transnazionale. Non è che... non c'è nessuna, diciamo, obbligo all'unità o all'unitarietà come se avere più linee politiche fosse un male. Io, personalmente, sostengo una cosa diversa. Cioè, sostengo che mettere in contrapposizione, diciamo così, la battaglia per la interruzione della condizione criminale dello Stato a dei temi diversi, di merito o territoriali, sia un errore. Ma non che sia un crimine o che sia una cosa dell'esa maestà oddio, che cosa succede, ci spacchiamo. Magari uno dice ci sono due linee. Ma secondo me sarebbe un errore perché tanti temi e tanti fronti, se affrontati con un certo metodo, possono rafforzare la battaglia principale. E quindi mi muovo di conseguenza, ma non è che voglio impedire ad altri di muoversi in altro modo. Ho l'impressione che oggi, anche per come cambiano i partiti, per come cambia la politica, se gli altri movimenti si affidano a un liderismo televisivo dove c'è una linea, una priorità di parola, poi non di fatti, ma insomma, e gira tutto attorno a quello, noi abbiamo bisogno di fare proprio il contrario, cioè di mettere in rete, in rete anche tecnologicamente, ma soprattutto di mettere in rete politicamente, diversi fronti di iniziativa, di creare dei collettivi di azione non violenta che non è semplicemente la dirigenza che sciopera, ma forse è di più l'azione non violenta che le persone interessate e colpite da un singolo problema loro trovano creativamente, o li aiutiamo a trovare dei modi di fare politica non violenta, radicale, sui temi e le urgenze. Io ho fatto l'esempio degli avvocati sulla questione della giustizia, ma qui noi all'Associazione Coscioni continuamente investiamo tempo e risorse per raccogliere le urgenze dei malati che vogliono l'eutanasia o delle persone che vogliono una fecondazione assistita. Allora, questo che cos'è? È distraente? È qualcosa che fa deviare rispetto alla priorità? Chi pensa questo? Credo che faccia un errore, perché poi, quando i ricorsi della legge 40 arrivano alla Corte Europea dei Diritti Umani, allora tutti ci accorgiamo che invece, perché lo Stato italiano si dimostra essere stato illegale, ah, ecco, c'era una coerenza, può essere funzionale e anche chi magari considera quei temi distraenti poi in quel momento è costretto a riconoscere che invece l'illegalità dello Stato italiano di fronte alle libertà civili viene a galla. Quindi non è un discorso ideologico, meno che mai da ideologia della linea unica. Ce ne siano di più, non è un problema, ma però io personalmente sono convinto di quello che sostengo. Lo strazio, ecco, può essere psicologicamente per chi lo vive come tale, ma a me non pare. D'accordo, ringraziamo Marco Cappato, ricordiamo tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.